Allarme rosso in provincia di Piacenza. Dopo i vari appelli lanciati nei mesi scorsi dai nuovi amministratori di Corso Garibaldi per cercare di far quadrare i conti del bilancio, arriva una nuova tegola di proporzioni davvero molto preoccupanti. Nella nuova provincia di Piacenza, infatti, ci sono da tagliare 6 milioni e 600 mila euro di spese per fare a meno di 161 degli attuali dipendenti a tempo indeterminato. Secondo i calcoli del governo relativi agli esuberi del personale, a seguito della riforma in fase di attuazione, la situazione è davvero disperata. I numeri sono riportati nell'edizione odierna del Sole 24 Ore, sulla base delle tabelle dell'Unione delle province italiane. Secondo il disegno dell'esecutivo, confermato anche dal nuovo presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, i nuovi enti provinciali decurtati di competenze e anche di personale, confluiranno in organismi territoriali più ampi di area vasta. La strategia del governo si è articolata in due passaggi, un supertaglio alle risorse, un miliardo complessivo nel 2015 per salire a 3 miliardi di euro nel 2017 e una conseguente razionalizzazione della pianta organica degli enti. I dipendenti coinvolti complessivamente su scala nazionale sono ben 19.339. Ma dove finiranno questi lavoratori in esubero? Sarà la nuova geografia delle competenze da redistribuire su comuni e regioni, come affermato dallo stesso giornale economico, a indicare il destino dei dipendenti in esubero. Secondo un'altra tabella che riporta i tagli già effettuati dalle province italiane dal 2010 ad oggi, Piacenza è tra quelle con la riduzione delle risorse più alta, meno 16 milioni di euro, pari al 58%. Da segnalare infine che i sindacati dei dipendenti della provincia di Piacenza hanno già annunciato lo stato di agitazione e nei prossimi giorni, anche alla luce dei nuovi dati occupazionali emersi, incontreranno il presidente Rolleri e i nuovi consiglieri dell'ente.